Le vibrazioni Aiello, Ivana Spagna, Tiro Mancino, Anna Tatangelo, Alex Britti, Audio 2, Samuel dei Subsonica, Alan Sorrenti, Sorgentone, Nesli, Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava. Sono i big dello spettacolo, protagonisti del calendario degli eventi estivi del comune di Montesilvano, che con questo cartellone si candida a essere la regina dell'estate. Concerti, spettacoli e festival rigorosamente gratuiti animeranno l'intero territorio comunale, dalla riviera al borgo di Montesilvano Colle, accontentando grandi e piccini per un mare di eventi che inizieranno a giugno e finiranno a settembre. Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, quali sono gli eventi di punta di questo calendario? Allora, è un calendario molto variegato, che ovviamente come le scorse estati avrà al suo interno tutta una serie di eventi più piccoli, ma ci sono eventi di spicco appunto mai come quest'anno. Io ritengo che, senza timore di smentita, si possa dire che Montesilvano non ha mai avuto un cartellone così importante, frutto di un bel lavoro di squadra, sicuramente con i due assessori Deborah Gomardi e Alessandro Pompei, ma anche con il resto della maggioranza. Gli eventi di punta sono dei concerti che si terranno per la maggior parte al Teatro del Mare, ce n'è per tutti i gusti e siamo certi di aver regalato non soltanto ai turisti, ma alla nostra città qualcosa di importante, soprattutto considerando che noi puntiamo sugli eventi. Di che impegno economico si tratta? In totale, considerando non soltanto il cachet degli artisti, ma anche le spese per l'allestimento dei palchi e la SIAE, contiamo un 500 mila euro di spesa. Alessandro Pompei, assessore del comune di Montesilvano agli eventi giovanili. Siamo molto contenti questa mattina di poter presentare un cartellone che riteniamo essere probabilmente il migliore da quando siamo in carica e ci tenevamo a farlo proprio perché questa è l'ultima estate, prima della fine del nostro mandato. Abbiamo investito tanto in maniera sempre crescente, anno dopo anno, sugli eventi giovanili in maniera particolare e purtroppo è saltato pochi giorni fa il concerto del primo maggio, ma lo recupereremo sabato in occasione dell'avvio del Giro d'Italia. Deborah Comardi, assessore del comune di Montesilvano per il turismo. Sono tutti eventi gratuiti? C'è qualcosa a pagamento? Come Montesilvano abbiamo puntato sugli eventi gratuiti e dall'inizio del nostro mandato che teniamo questa linea vogliamo far usufruire della vitalità, della bellezza, della musica e della gioia a tutti i cittadini di Montesilvano e a tutti i turisti. Così che possano continuare a scegliere Montesilvano come meta per le proprie vacanze. I cittadini possono invece usufruire di due mesi pieni di vacanza senza spostarsi da casa.